Non appena detto che a farsi. Ester Day Sera. In cui la Juventus ha fatto il suo debutto nel campionato vincendo e convincendo nella casa. Del Udinese per 30. Ha anche visto il debutto in Serie A di Kenan Hildiz. La talentuosa classe del 2005, è entrata in campo nella fase finale della partita. Iniziando a mostrare alcuni colpi del suo repertorio tecnico. Alla fine della sfida Max Allegri ha commentato. Scherzosamente. La sua esibizione domani si taglia i capelli. Perché se l'ha toccato 100 volte e ora se deve tagliarlo. È un ragazzo con grandi qualità.